Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day, vinti e cinque anni di matrimonio. Mi piace perché non si arrabbia mai, mi ha detto io. Allora ha domandato a lui, non ti arrabbisci mai, ma mi ha insegnato mio padre che se si ha un fastidio e non si ha la soluzione, non si può arrabbiarsi. Se si ha un fastidio e non si ha la soluzione, serve arrabbiarsi, non si risolve. Ma è un risonamento, sapevi, allora restano ben che mai, di studiare l'arrabbia col risonamento. Ma l'arrabbia non viene a risonare, viene di un'altra banda. Buone giornate e buone vite. Buone giornate e buone vite.